ciao sono il dottor max in questo video ti spiego come si cura la pressione alta la pressione alta o ipertensione è una condizione in cui la pressione del sangue nelle arterie è costantemente elevata il che può aumentare il rischio di problemi cardiaci ictus e altre complicazioni il trattamento dell'ipertensione è importante per ridurre questi rischi di seguito sono elencate alcune delle principali strategie di trattamento per la pressione alta cambiamenti nello stile di vita alimentazione sana ridurre il consumo di sodio sale e aumentare l'assunzione di potassio può aiutare a controllare la pressione arteriosa una dieta ricca di frutta verdura cereali integrali e proteine magre è consigliata controllo del peso mantenere un peso corporeo sano o perdere peso se si è in sovrappeso può ridurre la pressione arteriosa esercizio fisico regolare l'attività fisica moderata come camminare nuotare o fare esercizi aerobici può contribuire a mantenere una pressione arteriosa sana limitazione dell'alcol limitare l'assunzione di alcol può contribuire a ridurre la pressione arteriosa riduzione dello stress gestire lo stress attraverso tecniche di rilassamento come la meditazione o yoga può avere un impatto positivo sulla pressione sanguigna farmaci se i cambiamenti nello stile di vita da soli non sono sufficienti a controllare la pressione alta il medico può prescrivere farmaci antipertensivi ci sono diversi tipi di farmaci antipertensivi disponibili tra cui diuretici beta bloccanti ac inibitori calcio antagonisti e altri il tipo di farmaco e la sua dose dipendono dalla gravità dell'ipertensione e dalla risposta individuale il trattamento monitoraggio regolare è importante monitorare regolarmente la pressione arteriosa e seguire le indicazioni del medico per regolare i farmaci o apportare eventuali modifiche al trattamento gestione delle condizioni di salute sottostanti controllare e gestire le condizioni di salute sottostanti come il diabete o l'ipertensione arteriosa può contribuire a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo riduzione del consumo di sale limitare l'assunzione di sale è importante nella gestione dell'ipertensione si consiglia di ridurre il consumo di cibi ad alto contenuto di sale come cibi processati e cibi pronti è fondamentale consultare un medico per una valutazione accurata della pressione arteriosa e per discutere delle opzioni di trattamento più appropriate per la propria situazione il trattamento dell'ipertensione dovrebbe essere personalizzato in base alle esigenze individuali e monitorato regolarmente per garantire un controllo efficace della pressione sanguigna grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata